Ti chiedo da un po' come è sorto il rapporto tra te e il tuo produttore Gigi, come è nata l'amicizia, la persona con la musica? Non mi viene da dire perché se dovessi raccontare come ci siamo conosciuti gli erano in gran campo di guarda. Perché ho un po' il destino e la voglia di intraprendere un percorso con una persona che all'inizio era sconosciuta. Prima di tutto c'è stata la ricenza e poi la musica è stata la nostra. Grazie. Grazie a te, incertivissima. Certo. Niente, un settimino è un flusso di coscienza, chiamiamolo così, un testo che è uscito da dentro, semplicemente. E niente, spero che questa traccia e questa musica possa far risvegliare quello che ha fatto risvegliare il mondo. Perciò ho una speranza. Grazie a te. Come dice, ha detto che i rifiutti musicali sono altissime? Diciamo che per i rifiutti musicali, questi sono i miei sporti, però come rifiutti musicali è la musica in generale. Non troppo. Diciamo che io faccio la musica eccetera e basta, semplicemente, senza troppi pensieri. Sì, 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 sì. Mi ascolto tanta musica e poi loro sono degli artisti che hanno accompagnato molto nei giornali. Sì. E un'ottima domanda. E se mi pare riesco a pesare ogni parola, lo faccio. Però nel momento in cui vedo che ogni parola non riesco più a pesare nella stessa maniera. Sì. E' il tuo pazzo preferito generale? Non ce l'ho. Un bel tuoio? Non ce l'ho, adesso è questo dei bambini. Mi pare direi, capito? Vado di poter raccomandare quell'altra. Diciamo che ho tutti i miei pezzi, mi rappresento al 100%. L'unica cosa che ti posso dire è che il bambino è niente, non ne prezzi nulla o nessuna parola. Mi credo che questa sia perché è come adesso. Grazie mille a voi. Ma c'è anche lì, grazie mille a voi. Buona giornata. Sì, non so quello che sei. Incrociamo le dita. Sono il mio dito.